Allora noi siamo la Prologo di Paola e con menza soddisfazione abbiamo organizzato questo incontro, questa ripartenza qui nella città di Paola e speriamo nel proseguo di altre manifestazioni che riguarderanno l'UMPLI e la Prologo e cercheremo di dare il nostro contributo come associazione Prologo di Paola per far sì che ogni progetto possa essere poi concluso. Grazie. Grazie.